pace e bene cari fratelli e sorelle bentrovati in questa quarta domenica del tempo ordinario eccoci al primo segno meglio il primo miracolo di gesù nel vangelo secondo marco che è un esorcismo un uomo posseduto da uno spirito impuro viene liberato da gesù che con la sua sola parola scaccia il maligno tenete conto che la prima parte del vangelo secondo marco è attraversata da una domanda di fondo chi è gesù chi è costui che compie e dice queste cose quindi gesù ci viene manifestato come colui che libera l'uomo dal male che insegna con autorità ora lasciamo che questa parola parli al nostro cuore perché il signore vuole liberare sempre più ognuno di noi per renderci capaci di amare come lui di sabato gesù entra in sinagoga come ogni pio ebreo e insegna con autorità non come gli scribi ad un certo punto un uomo era posseduto da uno spirito impuro che comincia a gridare dicendo che vuoi da noi gesù nazareno sei venuto a rovinarci io so chi tu sei il santo di dio quest'uomo chissà da quanto è che era nella sinagoga prima non era mai successo nulla ora a contatto con gesù si ribella il male che è presente in lui come a dirci è dalla relazione col signore che vengono messe in luce e veniamo liberati da quelle menzogne da quelle contraddizioni che ognuno di noi ha nel suo cuore ognuno di noi ha infatti zone della sua anima non ancora redente egoismi latenti più o meno larvati o evidenti ecco è nella relazione con gesù ed è nell'ascolto della sua parola celebrata nella comunità riunita insieme camminando insieme con la comunità credente che ho la possibilità di essere rischiarato nelle mie tenebre ecco questo spirito impuro non vorrebbe essere colpito non vorrebbe essere toccato questo a volte può accadere anche a noi quando quando preferiamo non lasciarci scomodare troppo da ciò che ascoltiamo il rischio di ridurre la parola di dio a qualcosa solo da conoscere e da sapere o la presunzione di pensare già di sapere ci può chiudere e rinchiudere in una gabbia la parola di dio infatti ci è data per la nostra guarigione per la nostra liberazione per la nostra purificazione la lettera agli ebrei dice che la parola del signore è come una spada che penetra fino al punto di divisione più profondo della nostra anima viene a scrutare pensieri sentimenti potremmo dire che viene a potare a tagliare ciò che non va per redimere la nostra vita che bello prendere la santa abitudine di pregare ogni giorno con il vangelo non fermandoci soltanto all'aspetto cognitivo intellettuale cioè cosa significa ma lasciandoci interpellare cioè cosa dice a me soffermandoci laddove ci sentiamo maggiormente attratti interpellati lasciare che il signore ci parli ci tocchi anche quando è scomodo se ad esempio una pagina meditata una parola ascoltata un'omelia fruita mi tocca nel cuore mi smuove magari lì per lì potrò anche sentire fastidio ma se anziché scappare provo ad andare in più in profondità e a lasciarmi operare da quella parola bene il signore sappiamolo bene viene per la nostra guarigione come un medico che se incide incide per guarire non per rovinare per distruggere colpisce che lo spirito impuro presente in quest'uomo parli al plurale ecco indica la realtà l'urima del male più forte della quale è il signore gli basta solo una parola per liberare quest'uomo a livello esistenziale ci fa riflettere perché noi tante volte siamo scissi interiormente ecco mi colpì una volta una persona che mi diceva che gran parte della sua fatica veniva dal fatto che quando faceva una cosa la sua testa non era mai lì presente era sempre altrove era sempre connessa un'infinità di cose ma sconnessa dalla realtà ecco è un po la nostra realtà siamo spesso frammentati divisi in noi stessi quante emicranie delle quali soffriamo sono dovute proprio al mondo dei pensieri a questo essere continuamente altrove in lotta continua in un rimuginamento continuo ecco il signore viene a liberare e a portarci verso una unificazione della nostra persona verso una pacificazione profonda chiaro insieme alla nostra vigilanza sul mondo dei pensieri dei sentimenti ma il signore viene a restituire unità alla nostra vita questa è la sua meravigliosa potenza ed efficacia in noi il maligno infatti dice se è venuto a rovinarci la risposta è sì gesù è venuto a rovinare ciò che rovina l'uomo che è il male attenti qual è il punto l'inganno grande è pensare che il signore venga a rovinare noi quante persone soprattutto i giovani hanno un'idea distorta di dio come colui che viene a limitare la libertà colui che viene a toglierti qualcosa colui che viene ad importi regole avulse dalla vita che ti ostacolano nel goderla pienamente non è così il signore viene a liberare la nostra libertà perché possiamo essere capaci di capire scegliere quello che è il nostro vero bene ed essere felici il signore non viene a rovinare noi viene a rovinare ciò che rovina noi e a restituire bellezza alla nostra vita ultimo passaggio per contemplare l'opera di liberazione di dio e l'imbroglio del male nella nostra vita se ci fate caso gesù risponde fermamente a questo spirito impuro taci esci da lui il signore non dialoga con il nemico qui abbiamo già un punto prezioso per la nostra vita spirituale quando ci rendiamo conto che un pensiero è una tentazione che una situazione è un potenziale pericolo è inutile portarla avanti ebbene tagliare prima che sia troppo tardi padre pio diceva che il diavolo è come un cane legato ad un albero non ti morde se non vai nel suo raggio d'azione ora qual è la cosa interessante che gesù non vuole la testimonianza di questo spirito impuro cioè che sia lui a dire chi è gesù e uno potrebbe chiedersi ma perché gesù gli ha intimato di tacere alla fine qualcosa di giusto su di lui l'ha detta sì qualcosa di giusto su gesù l'ha detta ma in un contesto in un modo sbagliato pensate di essere presenti in quella sinagoga sentite un uomo che ad un certo punto mentre ascolta parlare gesù gli inveisce contro dicendogli che vuoi da noi gesù nazareno sei venuto a rovinarci cosa capite che gesù è venuto a rovinare noi persone presenti cioè che gesù è venuto per la nostra rovina chi ascoltava non poteva capire il senso di quelle parole che sentiva dire ad un uomo quindi possiamo dire il gioco del maligno qual è è quello di mischiare verità e menzogna può usare anche pezzi di verità ma in un modo distorto in un contesto sbagliato per portarci all'infelicità per portarci alla confusione e ciò lo fa a tutti i livelli anzitutto in ciò che riguarda dio e la nostra relazione con lui cioè l'idea di dio che semina in noi un'idea distorta di qualcuno lontano giustiziere punitivo vendicativo narcisista che vuole essere servito e dalle sue benedizioni in cambio di prestazioni oppure viceversa qualcuno totalmente ininfluente che alla fine conclude con un tutti promossi della serie ma si facciamo quel che vogliamo tanto dio ce l'abbiamo sempre nel cuore il diavolo poi semina confusione in ciò che riguarda la vita quotidiana ciò che amore è o non è mischiando le carte facendo passare per bene ciò che in realtà è male portando confusione sui valori seri della vita basta guardarci oggi e ci rendiamo conto come dice papà francesco di una cultura dello scarto imperante per cui se la persona non funziona vale la pena gettarla via ma il diavolo poi semina confusione anche nelle realtà più semplici e quotidiane basterebbe dare uno sguardo sui social e renderci conto di quanta confusione regni di quante cose assurde gruppi assurdi ragionamenti assurdi avanzino negazionisti complottisti derrapiattisti quanonisti di tutto e di più ora che ognuno possa pensare quel che vuole va bene ma quando si fanno passare per vere cose che non lo sono e ci si convince di cose assurde si arriva anche alla violenza per avallarle beh lì bisognerebbe un attimino fermarsi e mettere in moto fratello cervello anche perché non penso che una persona si possa definire tuttologo soltanto perché legge qualche post pubblicato su facebook o qualche notizia in internet ora questo lungo giro per aiutarsi a cogliere che il diavolo si diverte a seminare confusione ecco perché gesù ad un certo punto intima il silenzio rimedio bellissimo e taglia a corto ecco il signore viene a schiarire mente e cuore da tutta la confusione quanto è bello riscoprire il silenzio scoprire che anche se non dico la mia il mondo gira lo stesso mettersi in un atteggiamento di preghiera e di ascolto coltivare l'umiltà che mi porta a non dire cose delle quali non sono edotto insomma entrare in un cammino di semplificazione purificazione e unificazione che la grazia unita alla nostra natura può portare avanti la parola di oggi viene a gettare luce nella nostra vita e ci invita ad aprire con umiltà il cuore al signore al frequentarlo a metterci in ascolto profondo della sua parola e di chi ce la trasmette così che la nostra vita possa essere man mano liberata e splendere di una luce nuova divina eterna che il buon dio vi benedica pace e bene a tutti